Se ti dicessi che con il metodo rimodellati riusciamo a fare la composizione corporea, cosa vuol dire? Riduciamo il grasso in eccesso e lo trasformiamo in energia, quindi in massa magra. Lo so cosa stai pensando, ti sembra un sogno, soprattutto se sei una donna che costantemente ha fatto trattamenti. Ti chiederai come è possibile, non scendo nello specifico ma cerco di farti capire in modo semplice prima di iniziare un percorso di perdita taglie andiamo a sbloccare in maniera totale il tuo corpo eliminando l'infiammazione che il corpo ha. Sai, il corpo si può bloccare per svariati motivi, lo stress da seguire figli, il lavoro, le cose, il cibo che alle volte diventa nemico. Si pensa che si ha fame, ma in realtà è una fame nervosa. Quindi dopo aver fatto ed eliminato l'infiammazione del tuo corpo e l'ho portato, come dico io, in una vera rinascita, inizio un percorso di attacco, dove da una parte elimino l'adipe, dall'altra parte, sempre nello stesso momento, lo trasformo in energia, quindi in massa magra. Spero che con questo video ti sono stata d'aiuto e che tutto può cambiare solo se ti affidi ad una vera professionista che appunto già lavora con il corpo e solo in questo caso avrai dei risultati che hai sempre sognato. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con le tue amiche e seguici sui nostri canali social. Io ti saluto, mi presento brevemente, sono Pamela Scribano e sono l'ideatrice del metodo Rimodellati Addome Fianchi, dove sono sicura di garantirti meno una taglia in sole quattro settimane. A presto! A presto!